Un Natale con un programma molto intenso e impegnativo, la dimostrazione anche della vicinanza al mondo del sociale con tutte le associazioni che sono messe a disposizione. Sarà un Natale all'insegna del divertimento e della solidarietà. Cortona apre così le attività dal 26 novembre all'8 gennaio con la novità della Zipline, la teleferica panoramica che garantisce emozioni ed un panorama unico. È una novità, credo, per quanto riguarda tutto il centro sud Italia, non solo, la partenza avverrà dalla fontana del parterre fino a piazzale Garibaldi, un lancio nel vuoto di 160 metri, nella massima sicurezza evidentemente. Abbiamo trovato una ditta specializzata che installa e costruisce Zipline e ci sarà anche del personale specializzato. Dal parterre poi un percorso suggestivo ed originale per entrare nel Natale cortonese, a partire da piazza Garibaldi con la sfera dedicata alle attività per i bimbi e la casa di Babbo Natale con tanto di elfi. Tutto attorno al centro storico saranno presenti anche i mercatini artigianali e gastronomici. Piazza Signorelli, grazie alla copertura Crystal, sarà il luogo degli spettacoli e degli eventi. Piazza della Repubblica, invece, sarà protagonista con esibizioni, videomapping e nevicata. Il Natale non è un evento, è un evento straordinario, è un evento carico di tradizione e carico soprattutto di aspettative da parte di tutti. Senza il coinvolgimento della popolazione, senza il coinvolgimento delle associazioni non sarebbe stato proprio possibile portarla a termine. Tra gli eventi più attesi quello con la cena gourmet di San Silvestro, il Capodanno in piazza Signorelli e la colazione al museo ed il concerto di Capodanno con la core orchestra. Credo che sia un unicum poter cenare nella piazza più bella di Cortona in inverno, il 31 dicembre, sotto le stelle della nostra fantastica città, con un menù stellato. Quindi avremo uno chef stellato proveniente dalla nostra bellissima Italia che ci porterà un menù eccezionale che andremo a comunicarvi. Grande novità, anche il Museo Mike sarà aperto. Il Palazzo Casali di fronte a noi, che fa da sfondo e da cornice illuminato, sarà aperto per tutti i visitatori che vorranno visitare il museo nella notte di Capodanno. E chi sarà dentro avrà un bellissimo calice di champagne per poter brindare al nuovo anno.